Due calazioni armative Tutte, tutte queste singer bre servants做enHicks ossia sì Io ti invito veramente a essere molto attenteso alle articolazioni Perché Matье é un instrument romantico che però usa ancora un articolazione di stile classico Per esempio questo non è Tra le note non legate, quindi il sospiro prevede anche un prendere aria, un respiro. Tra le note non sopra. Non andiamo subito. La salsiccia non legata. E con il salsiccia non legate il rischio che si riesce dalla stagione, dunque non legate il rischio. La salsiccia non legate il rischio di non legate il rischio più possibile. Sforzato ancora, è più comunque sempre questa è la nota alta, va bene, 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 questo è come una portazione di queste succe, divento uno staccato, perché introduce il motivo dello staccato che poi non segue, quindi deve essere assolutamente diretto, Questa fine per raccordarvi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.